Dopo diversi giorni senza nuovi casi, tornano i contagi da coronavirus nella città di Sciacca, sette nuovi casi comunicati dal sindaco Francesca Valenti, nuovi soggetti positivi anche a Montevago, Samuca e Santa Margherita. Ha generato preoccupazione a Ribera la presa di posizione del Tribunale per i diritti del malato di Sciacca a proposito del superamento degli ospedali doppioni. Riflessione campanilistica, dicono da Ribera, mai auspicato la chiusura del fratelli Parlapiano, precisa al canto suoli in la piazza. Primo fine settimana con le nuove restrizioni a Sciacca, serrati i controlli delle forze dell'ordine allo stazione a Gaia di Garaffe. Ad Agrigento, 11 persone sorprese in un'abitazione sono state multate per avere infranto il coprifuoco. Allarme Covid e scuola dopo tre giorni di sospensione delle elezioni in presenza per consentire la sanificazione dei locali, è ripresa questa mattina l'attività nelle scuole dell'infanzia primarie e medie della città di Sciacca. Politica, la Mizzica è il solito attacco a tutti e su tutto, così il centrodestra replica all'associazione Mizzica, che sabato scorso, con Fabio Termine, ha definito la mozione di sfiducia un tentativo disperato fatto da veterani della politica. Un anno fa la morte della piccola carola Benedetta Catanzaro, stroncata all'età di nove anni da una eneurisma, i cui genitori decisero di donare gli organi, un gesto di grande sensibilità e altruismo, che ancora oggi viene ricordato dalla comunità saccense. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale. Tornano i contagi nella città di Sciacca, sette nuovi casi comunicati dal sindaco Francesca Valenti. Si tratta di persone che appartengono a svariate fasce d'età. Il numero degli attuali positivi in città adesso è 38. Aumentano i casi anche a Sambuca, Santa Margherita Belice e Montevago. A livello provinciale restano assai preoccupanti i numeri del comune di Canicattì. C'è il servizio. Dopo diversi giorni senza nuovi contagi, tornano a registrarsi nuovi casi di soggetti positivi al coronavirus nella città di Sciacca. Sono sette quelli annunciati oggi dal sindaco Francesca Valenti e che portano il totale degli attuali contagiati dunque a 38. Le sette persone che hanno contratto il virus sono di svariate fasce di età, ha riferito il primo cittadino. Nuovi casi che non figurano chiaramente nel bollettino dell'ASP, anche perché l'ultimo report dell'azienda sanitaria provinciale è quello di ieri e fa riferimento alla situazione aggiornata al giorno precedente, cioè a sabato 14 novembre. Un bollettino che riporta i nuovi positivi in provincia, 55, ma non il numero dei tamponi effettuati, sei nuovi ricoveri e tre decessi. Ma anche quello dei ricoveri non è un dato attendibile da giornato se si considera che a parte due ricoveri in più al San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i pazienti adesso sono 35, per l'ospedale di Sciacca viene riportato un numero invariato di persone ricoverate rispetto alla data del 13 novembre, quando invece nel fine settimana ci sono stati altri due decessi al Giovanni Paolo II. Si tratta di due anziani, un uomo di Caltabellotta di 87 anni e un altro di Serra di Falco di 80 anni, che erano ricoverati da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva. Decessi che hanno portato a quattro il numero dei morti in due giorni, nell'ospedale di Sciacca, dopo l'anziana saccenza di 87 anni e un'altra di 93 anni di chiusa sclafani. Anche all'ospedale di Agrigento, nelle ultime ore, c'è stato un decesso, quello di una donna di 72 anni di porto empedocle, anche lei positiva al coronavirus. In questo caso i familiari hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Per ciò che concerne i contagi, altri tre casi di positività sono stati riscontrati nel comune di Santa Margherita Belice, ad annunciarli è stato il sindaco, Franco Valenti. Si tratta di un uomo di 48 anni e di un bambino e di una bambina di 3 anni, che erano stati sottoposti nei giorni scorsi, prima a tampone rapido, poi a quello molecolare, in quanto alunni di una classe della scuola dell'infanzia, interessata da un altro caso di positività. Con questi nuovi tre casi, Santa Margherita sale a 58 persone attualmente contagiate. Altre tre persone sono risultate positive al Covid anche a Sambuca di Sicilia. Due nuovi casi a Montevago, dove adesso i positivi sono nove. Per uno dei due si è reso necessario il ricovero nel reparto di medicina Covid del Giovanni Paolo II di Sciacca. L'altro soggetto è invece asintomatico, ha riferito il sindaco Margherita Larocca Ruvolo. Un altro contagio da coronavirus è infine a Caltabellotta, dove adesso i casi accertati sono 14. Fin qui dunque le novità che riguardano questi comuni e che non figurano nel bollettino dell'ASP. La situazione a livello provinciale resta assai critica. Canicattì, che ha raggiunto quota 135, ma anche a Palma di Montechiaro, dove con 12 nuove persone contagiate, il numero degli attuali positivi adesso è 57. E a Favara, con sei nuovi casi, per un totale di 63 soggetti positivi al Covid. In crescita anche il dato di Aragona, che passa da 25 a 29 persone contagiate, e di Grotte, che registra sette nuovi contagi, per un totale di 25. Ha generato preoccupazione a Ribera la presa di posizione di qualche giorno fa del Tribunale dei diritti del malato di Sciacca, che ha invocato il superamento degli ospedali doppioni. Una riflessione che è stata percepita come una considerazione campanilistica, volta a invocare una soppressione del Fratelli Parlapiano, rilanciando temi che tuttavia sembrano smentiti dagli stessi lavori in corso per l'attesissima trasformazione in centro Covid. C'è il servizio. E si può immaginare definitivamente il superamento dei famosi ospedali doppioni. E' chiaro che nel momento in cui ci sono queste specialità e qua c'è un reparto di medicina indirizzo geriatrico, quindi geriatria, e anche là è un'offerta diversa rispetto al reparto di medicina tradizionale. Così due giorni fa al nostro telegiornale la responsabile di presidio del Fratelli Parlapiano, Salvatore Cascio, la questione degli ospedali doppioni, nel senso di due nosocomi situati a 20 km di distanza, che fanno sostanzialmente le stesse cose, è diventata argomento di scontro di campanile. Ad accendere la miccia, rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato, cittadinanza attiva e procuratori dei cittadini, che in una nota hanno proprio evidenziato la necessità di differenziare le caratteristiche dei due ospedali, forse l'hanno fatto in maniera poco chiara, o come dice oggi la stessa signora Piazza, probabilmente si sono espressi male. Fatto sta che da queste considerazioni si sono inseguite repliche e commenti stizziti. L'ex sindaco Carmelo Pace definisce le prese di posizione del Tribunale dei diritti del malato stupidi e superati, campanilismi, pur evidenziando come, a dispetto degli impegni di razza a mantenere tutti i reparti esistenti, sarebbero già stati chiusi il reparto di chirurgia, si starebbe trasferendo la metà dei posti letto della Maugeri e il pronto soccorso dovrebbe diventare guardia medica. Anche l'ex sottosegretario Nene Mangiacavallo ha polemizzato, definendo gravi, arbitrarie e fuorvianti le posizioni di cittadinanza attiva. E se il neonato gruppo politico azioni di Carlo Calenda, rappresentato a Ribera da Calogero Spallino, annuncia una mobilitazione popolare contro la presunta trasformazione del pronto soccorso in PTE, un altro ex consigliere comunale, Emanuele Livoti, ricorda come l'ospedale di Ribera sia necessario ed indispensabile a tutela del diritto della salute. Oggi però il gruppo diventerà bellissima che Ribera conta di due assessori e tre consiglieri comunali, interviene per fugare, si legge nella nota, tutte le voci allarmistiche attorno all'ospedale di Ribera a tranquillizzare la popolazione del territorio. Un intervento, quello del partito che fa capo non ad uno qualunque, ma al presidente della regione, deputata a decidere sulla sanità, nel quale si fa il punto degli interventi in corso a Ribera e sulle prospettive future. Il tutto è stato appreso nell'ambito di un recente incontro avuto con il manager Zappia. E così quelli di Diventerà Bellissimi evidenziano che con il lavoro in corso attualmente nella struttura sanitaria di Ribera, l'ospedale si rinnoverà e si potenzierà dall'adeguamento dei gas medicali al miglioramento dell'area dell'emergenza con il ricorso al personale medico e dalla continuità assistenziale con dotazione di medici in numero sufficiente attraverso anche la presenza dello stesso 118. C'è poi il primo piano che sarà Covid Hospital con 10 posti letto di terapia intensiva e 10 posti letto di terapia subintensiva con fornitura di tutto il fabbisogno tecnologico con in più l'attivazione del reparto di malattie infettive correlativo personale. Ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva andranno invece al secondo piano mentre al terzo piano sarà destinato il centro Maugere al ricovero ordinari per medicina e chirurgia con gli occhi puntati sul post-Covid. I vertici riberesi di Diventerà Bellissima dicono così che chiunque abbia onestà intellettuale e capacità di guardare in modo corretto lo sviluppo della situazione sanitaria del territorio e sappia anche leggere un testo scritto non può che concordare che il futuro dell'ospedale di Ribera si presenta a tutto vantaggio del nostro territorio. Chi mette in giro la diceria che il pronto soccorso sarà abolito non ama la verità dicono quelli di Diventerà Bellissima. Il commissario Zappia su questo punto è stato esplicito l'area dell'emergenza detto sarà potenziata funzionalmente attraverso l'integrazione negli stessi locali dei medici in turno della struttura con quelli della continuità assistenziale con la dislocazione negli stessi locali dell'ambulanza del 118 che avrà all'interno un medico e un infermiere dell'emergenza urgenza. Superare gli ospedali doppioni non vuol dire auspicare la chiusura dell'ospedale di Ribera questo il chiarimento della signora Lilla Piazza che in una intervista al nostro telegiornale spiega come il senso dell'intervento di due giorni fa sia proprio opposto a quello percepito nel comune Crispino. Dobbiamo unire le forze dice la piazza. Ascoltiamo l'intervistata da Massimo D'Antoni. Si preoccupano del fatto che se si dovesse andare al superamento degli ospedali doppioni il rischio alla fine sarebbe la chiusura dell'ospedale. No ma noi non vogliamo la chiusura dell'ospedale un ospedale nostro lo vogliamo che tenere aperto cioè dovremmo andare contro noi stessi Sciacca ha un'aggiunta alla sua ricchezza sanitaria avere un ospedale di Ribera che potrebbe servire per dare altri servizi quelli che magari non ci sono. Ora questo che stanno diciamo prospettando di un centro per le malattie infettive è un'idea brillante noi la riteniamo bellissima perché tutto il nostro territorio ne potrebbe giovare di questo centro di riferimento poi provinciale. Quindi nell'ambito di una differenziazione tra reparti il centro di malattie infettive sarà Ribera non sarà Sciacca forse non si è capito bene l'importanza di questa soluzione perché qui forse ha lavorato anche la rocca la ruvola in questo senso perché è un'idea brillantissima. Lei come considera questa critica? Campanilismo? No, il campanilismo non esiste proprio perché siamo un unico ospedale quindi non esiste oltretutto questo diciamo è tutto a vantaggio dell'utenza se noi facciamo mettiamo in atto questa idea diciamo così positiva di fare di non fare doppioni perché si avrebbero più servizi distribuiti nel territorio e quindi ci ha sorpreso che noi pensavamo invece di essere applauditi per quello che avevamo detto invece non so perché o forse non ci siamo espressi bene nella lettera che i doppioni nella nuova medicina e nella distribuzione degli ospedali nei territori non ha più motivo di esistere perché è un ospedale che ha pochi accessi praticamente e non è un ospedale sicuro lo dicono diciamo le statistiche quindi fare un ospedale dove le forze si uniscono e quindi si fa gli accessi si concentrano in un'unica struttura sarebbe anche una tutela per il cittadino per la sua salute dal vostro punto di vista invocare il superamento degli ospedali doppioni non vuol dire penalizzare l'ospedale di ribera la blindatura la salvaguardia di un ospedale di ribera che da anni si diceva che era a rischio di mantenere invece rimarrà sicuramente però rimarrà e se tutto viene fatto e dobbiamo insistere perché venga fatto lì dobbiamo lavorare e lì ci dobbiamo unire e insistere perché se c'è questo progetto che non sia scritto solo sulla carta ma che venga realizzato quelle sono le battaglie da fare forze dell'ordine impegnate nel fine settimana a rispettare a far rispettare la nuova ordinanza del sindaco Valenti finalizzata a impedire assembramenti soprattutto nella zona dello stazzone Gaia di Garaffe luogo di ritrovo dei giovani sercensi e intanto sta facendo discutere il caso degli 11 agrigentini multati ad agrigento sentiamo il servizio quello appena trascorso è stato un fine settimana di controlli da parte delle forze dell'ordine sul rispetto delle normative vigenti mirate a contrastare la diffusione del coronavirus a Sciacca è entrata in vigore l'ordinanza anti-assembramenti firmata dal sindaco Francesca Valenti e riguardante essenzialmente le zone della cosiddetta Movida a partire da Sazzone e Gaia di Garaffe aree che tra sabato e domenica sono risultate effettivamente vuote presidiate con il transito ripetuto di pattuglie delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della norma erano questi luoghi in cui nelle settimane precedenti numerosi ragazzi si riversavano in massa incuranti delle norme vigenti sul distanziamento sociale i controlli delle forze dell'ordine hanno riguardato anche altre zone della città alcuni giovani sarebbero stati sorpresi in gruppo e fatti sgomberare in discesa Campidoglio verifiche estese anche alle località di Campania alla ricerca di eventuali feste private a Sciacca dunque nessun illecito è stato riscontrato e nessuna multa è stata levata al contrario di quanto accaduto invece nella città di Egrigento lì i militari dell'arma su segnalazione parrebbe di alcuni vicini che avrebbero sentito trambusto provenire da un appartamento ubicato in pieno centro storico hanno costatato che all'interno di un'abitazione privata intorno alla mezzanotte era in corso una festicciola fra amici 11 i soggetti tutti del posto trovati all'interno della residenza i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile agli ordini del capitano Marco Larrovere hanno così elevato 11 multe da 400 euro a testa all'agrigentino 44enne residente nell'abitazione e da suoi 10 invitati se infatti le prescrizioni nazionali parlano di raccomandazione a non riunirsi in casa in più di 6 nell'ultimo dpcm è in vigore il coprifuoco a partire dalle ore 22 da tale ora infatti i cittadini sono obbligati a trovarsi all'interno della propria abitazione a meno che non si tratti di comprovati motivi di lavoro necessità o salute evidentemente non era questo il caso non solo sempre ad agrigento in piazza Marconi intorno alla mezzanotte di ieri un 23enne è stato fermato mentre era la guida della propria autovettura e controllato dai carabinieri è stato scovato senza assicurazione e non aveva neanche un valido motivo per stare in giro dopo le ore 22 inoltre mentre i militari dell'arma elevavano le due sanzioni quella per l'auto senza assicurazione e quella per violazione delle prescrizioni anti covid il giovane ha perso le staffe e minacciato i carabinieri per questo motivo è stato dunque denunciato in stato di libertà per minacce a pubblico ufficiale ben trovati anche oggi al nostro telegiornale tornano i contagi nella città di Sciacca sette nuovi casi comunicati dal sindaco Francesca Valenti si tratta di persone che appartengono a svariate fasce d'età il numero degli attuali positivi in città adesso è 38 aumentano i casi anche a Sambuca Santa Margherita Belice e Montevago a livello provinciale restano assai preoccupanti i numeri del comune di Canicattì c'è il servizio dopo diversi giorni senza nuovi contagi tornano a registrarsi nuovi casi di soggetti positivi al coronavirus nella città di Sciacca sono sette quelli annunciati oggi dal sindaco Francesca Valenti e che portano il totale degli attuali contagiati dunque a 38 le sette persone che hanno contratto il virus sono di svariate fasce di età ha riferito il primo cittadino nuovi casi che non figurano chiaramente nel bollettino dell'ASP anche perché l'ultimo report dell'azienda sanitaria provinciale è quello di ieri e fa riferimento alla situazione aggiornata al giorno precedente cioè a sabato 14 novembre un bollettino che riporta i nuovi positivi in provincia 55 ma non il numero dei tamponi effettuati 6 nuovi ricoveri e 3 decessi ma anche quello dei ricoveri non è un dato attendibile da giornato se si considera che a parte due ricoveri in più al San Giovanni di Dio di Agrigento dove i pazienti adesso sono 35 per l'ospedale di Sciacca viene riportato un numero invariato di persone ricoverate rispetto alla data del 13 novembre quando invece nel fine settimana ci sono stati altri due decessi al Giovanni Paolo II si tratta di due anziani un uomo di Caltabellotta di 87 anni e un altro di Serra di Falco di 80 anni che erano ricoverati da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva decessi che hanno portato a 4 il numero dei morti in due giorni all'ospedale di Sciacca dopo l'anziana Saccense di 87 anni e un'altra di 93 anni di chiusa sclafani anche all'ospedale di Agrigento nelle ultime ore c'è stato un decesso quello di una donna di 72 anni di Porto Empedocle anche lei positiva al coronavirus in questo caso i familiari hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica per ciò che concerne i contagi altri tre casi di positività sono stati riscontrati nel comune di Santa Margherita Belice ad annunciarli è stato il sindaco Franco Valenti si tratta di un uomo di 48 anni e di un bambino e di una bambina di 3 anni che erano stati sottoposti nei giorni scorsi prima a tampone rapido poi a quello molecolare in quanto alunni di una classe della scuola dell'infanzia interessata da un altro caso di positività con questi nuovi tre casi Santa Margherita sale a 58 persone attualmente contagiate altre tre persone sono risultate positive al covid anche a San Buca di Sicilia due nuovi casi a Montevago dove adesso i positivi sono nove per uno dei due si è reso necessario il ricovero nel reparto di medicina covid del Giovanni Paolo secondo di Sciacca l'altro soggetto è invece asintomatico ha riferito il sindaco Margherita della Roccarruvolo un altro contagio da coronavirus infine a Caltabellotta dove adesso i casi accertati sono 14 fin qui dunque le novità che riguardano questi comuni e che non figurano nel bollettino dell'ASP la situazione a livello provinciale resta assai critica a Canicattì che ha raggiunto quota 135 ma anche a Palma di Montechiaro dove con 12 nuove persone contagiate il numero degli attuali positivi adesso è 57 e a Favara con 6 nuovi casi per un totale di 63 soggetti positivi al covid in crescita anche il dato di Aragona che passa da 25 a 29 persone contagiate e di Grotte che registra 7 nuovi contagi per un totale di 25 Ha generato preoccupazione a Ribera la presa di posizione di qualche giorno fa del Tribunale dei diritti del malato di Sciacca che ha invocato il superamento degli ospedali doppioni una riflessione che è stata percepita come una considerazione campanilistica volta a invocare una soppressione del Fratelli Parlapiano rilanciando temi che tuttavia sembrano smentiti dagli stessi lavori in corso per l'attesissima trasformazione in centro covid c'è il servizio e si può immaginare definitivamente il superamento dei famosi ospedali doppioni è chiaro che nel momento in cui ci sono queste specialità e qua si fa c'è un reparto di medicina indirizzo geriatrico quindi geriatria e anche là è un'offerta diversa rispetto al reparto di medicina tradizionale Così due giorni fa al nostro telegiornale il responsabile di presidio del Fratelli Parlapiano Salvatore Cascio la questione degli ospedali doppioni nel senso di due nosocomi situati a 20 km di distanza che fanno sostanzialmente le stesse cose è diventata argomento di scontro di campanile ad accendere la miccia rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato cittadinanza attiva e procuratori dei cittadini che in una nota hanno proprio evidenziato la necessità di differenziare le caratteristiche dei due ospedali forse lo hanno fatto in maniera poco chiara o come dice oggi la stessa signora Piazza probabilmente si sono espressi male fatto sta che da queste considerazioni si sono inseguite repliche e commenti stizziti l'ex sindaco Carmelo Pace definisce le prese di posizione del Tribunale dei diritti del malato stupidi e superati i campanilismi pur evidenziando come a dispetto degli impegni di razza a mantenere tutti i reparti esistenti sarebbero già stati chiusi il reparto di chirurgia si starebbe trasferendo la metà dei posti letto della Maugeri e il pronto soccorso dovrebbe diventare guardia medica anche l'ex sottosegretario Nene Mangiacavallo ha polemizzato definendo gravi arbitrarie e fuorvianti le posizioni di cittadinanza attiva e se il neonato gruppo politico azioni di Carlo Calenda rappresentato a Ribera da Calogeno Spallino annuncia una mobilitazione popolare contro la presunta trasformazione del pronto soccorso in PTE un altro ex consigliere comunale Emanuele Livoti ricorda come l'ospedale di Ribera sia necessario ed indispensabile a tutela del diritto della salute oggi però il gruppo diventerà bellissima che a Ribera conta di due assessori e tre consiglieri comunali interviene per fugare si legge nella nota tutte le voci allarmistiche attorno all'ospedale di Ribera a tranquillizzare la popolazione del territorio un intervento quello del partito che fa capo non ad uno qualunque ma al presidente della regione deputata a decidere sulla sanità nel quale si fa il punto degli interventi in corso a Ribera e sulle prospettive future il tutto è stato appreso nell'ambito di un recente incontro avuto con il manager Zappia e così quelli di diventerà bellissimi evidenziano che l'ospedale si rinnoverà e si potenzierà dall'adeguamento dei gas medicali al miglioramento dell'area dell'emergenza con il ricorso al personale medico e dalla continuità assistenziale con dotazione di medici in numero sufficiente attraverso anche la presenza dello stesso 118 c'è poi il primo piano che sarà Covid Hospital con 10 posti letto di terapia intensiva e 10 posti letto di terapia subintensiva con fornitura di tutto il fabbisogno tecnologico con in più l'attivazione del reparto di malattie infettive correlativo personale ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva andranno invece al secondo piano mentre al terzo piano sarà destinato il centro Maugere al ricovero ordinari per medicina e chirurgia con gli occhi puntati sul post Covid i vertici riberesi di Diventerà Bellissima dicono così che chiunque abbia un estante lettuale capacità di guardare in modo corretto lo sviluppo della situazione sanitaria del territorio e sappia anche leggere un testo scritto non può che concordare che il futuro dell'ospedale di Ribera si presenta a tutto vantaggio del nostro territorio chi mette in giro la diceria che il pronto soccorso sarà abolito non ama la verità dicono quelli di Diventerà Bellissima il commissario Zappia su questo punto è stato esplicito l'area dell'emergenza detto sarà potenziata funzionalmente attraverso l'integrazione negli stessi locali dei medici in turno della struttura con quelli della continuità assistenziale con la dislocazione negli stessi locali dell'ambulanza del 118 che avrà all'interno un medico e un infermiere dell'emergenza urgenza superare gli ospedali doppioni non vuol dire auspicare la chiusura dell'ospedale di Ribera questo il chiarimento della signora Lilla Piazza che in una intervista al nostro telegiornale spiega come il senso dell'intervento di due giorni fa sia proprio opposto a quello percepito nel comune Crispino dobbiamo unire le forze dice la piazza ascoltiamo l'intervistata da Massimo D'Antoni si preoccupano del fatto che se si dovesse andare al superamento degli ospedali doppioni il rischio alla fine sarebbe la chiusura dell'ospedale no ma noi non vogliamo la chiusura dell'ospedale un ospedale nostro lo vogliamo che tenera aperto cioè dovremmo andare contro noi stessi Sciacca ha un'aggiunta alla sua ricchezza sanitaria avere un ospedale di Ribera che potrebbe servire per dare altri servizi quelli che magari non ci sono ora questo che stanno diciamo prospettando di un centro per le malattie infettive per le malattie infettive è un'idea brillante noi la riteniamo bellissima perché tutto il nostro territorio ne potrebbe giovare di questo centro di riferimento poi provinciale quindi nell'ambito di una differenziazione tra reparti sì il centro di malattie infettive sarà Ribera non sarà Sciacca certo ma mi pare chiaro addirittura il centro di malattie infettive non sarà nemmeno da Grigento quindi Ribera diventa centro ecco forse non si è capito bene l'importanza di questa di questa soluzione perché qui forse ha lavorato anche la rocca la ruvola in questo senso perché è un'idea brillantissima lei come considera questa critica? campanilismo? no il campanilismo non esiste proprio perché siamo l'unico ospedale quindi non esiste oltretutto questo diciamo è tutto a vantaggio dell'utenza se noi mettiamo in atto questa idea diciamo così positiva di fare di non fare doppioni perché si avrebbero più servizi distribuiti nel territorio e quindi ci ha sorpreso che noi pensavamo invece di di essere applauditi per quello che avevamo detto invece non so perché o forse non ci siamo espressi bene nella lettera che i doppioni nella nuova medicina e nella distribuzione degli ospedali nei territori non ha più motivo di esistere perché è un ospedale che ha pochi accessi e praticamente non è un ospedale sicuro lo dicono diciamo le statistiche quindi fare un ospedale dove le forze si uniscono e quindi si fa gli accessi si concentrano in un'unica struttura sarebbe anche una tutela per il cittadino per la sua salute dal vostro punto di vista invocare il superamento di un ospedale doppione non vuol dire penalizzare l'ospedale di Ribera no per noi è avvantaggiarle avvantaggiare tutte e due le strutture sia quella di Sciacca che quella di Ribera diciamo sono tutte e due avvantaggiate ed è avvantaggiato poi che il fruitore finale che è l'utente non vinciamo mai quando ci dividiamo se c'è una cosa che questo covid di buono tra virgolette spero di non venire equivocato e ci sta portando è addirittura la blindatura la salvaguardia di un ospedale di Ribera che da anni si diceva che era a rischio di mantenere invece rimarrà sicuramente però rimarrà e se tutto viene fatto e dobbiamo insistere perché venga fatto lì dobbiamo lavorare e lì ci dobbiamo unire e insistere perché se c'è questo progetto che non sia scritto solo sulla carta ma che venga realizzato quelle sono le battaglie da fare forze dell'ordine impegnate nel fine settimana a rispettare a far rispettare la nuova ordinanza del sindaco Valenti finalizzata a impedire assembramenti soprattutto nella zona dello stazzone Gaia di Garaffe luogo di ritrovo dei giovani sercensi e intanto sta facendo discutere il caso degli 11 agrigentini multati ad agrigento sentiamo il servizio quello appena trascorso è stato un fine settimana di controlli da parte delle forze dell'ordine sul rispetto delle normative vigenti mirate a contrastare la diffusione del coronavirus a Sciacca è entrata in vigore l'ordinanza anti-assembramenti firmata dal sindaco Francesca Valenti e riguardante essenzialmente le zone della cosiddetta movida a partire da Sazzone e Gaia di Garaffe aree che tra sabato e domenica sono risultate effettivamente vuote presidiate con il transito ripetuto di pattuglie delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della norma erano questi luoghi in cui nelle settimane precedenti numerosi ragazzi si riversavano in massa incuranti delle norme vigenti sul distanziamento sociale i controlli delle forze dell'ordine hanno riguardato anche altre zone della città alcuni giovani sarebbero stati sorpresi in gruppo e fatti sgomberare in discesa Campidoglio verifiche estese anche alle località di campagna alla ricerca di eventuali feste private a Sciacca dunque nessun illecito è stato riscontrato e nessuna multa è stata elevata al contrario di quanto accaduto invece nella città di Egrigento lì i militari dell'arma su segnalazione parrebbe di alcuni vicini che avrebbero sentito trambusto provenire da un appartamento ubicato in pieno centro storico hanno costatato che all'interno di un'abitazione privata intorno alla mezzanotte era in corso una festicciola fra amici undici i soggetti tutti del posto trovati all'interno della residenza i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile agli ordini del capitano Marco Larrovere hanno così elevato undici multe da 400 euro a testa all'agrigentino 44enne residente nell'abitazione e da suoi dieci invitati se infatti le prescrizioni nazionali parlano di raccomandazione a non riunirsi in casa in più di sei nell'ultimo dpcm è in vigore il coprifuoco a partire dalle ore 22 da tale ora infatti i cittadini sono obbligati a trovarsi all'interno della propria abitazione a meno che non si tratti di comprovati motivi di lavoro necessità o salute evidentemente non era questo il caso non solo sempre da grigento in piazza Marconi intorno alla mezzanotte di ieri un 23enne è stato fermato mentre era alla guida della propria autovettura e controllato dai carabinieri è stato scovato senza assicurazione e non aveva neanche un valido motivo per stare in giro dopo le ore 22 inoltre mentre i militari dell'arma elevavano le due sanzioni quella per l'auto senza assicurazione e quella per violazione delle prescrizioni anti-covid il giovane ha perso le staffe e minacciato i carabinieri per questo motivo è stato dunque denunciato in stato di libertà per minacce a pubblico ufficiale allarme covid scuola dopo tre giorni di sospensione delle lezioni in presenza questa mattina alla ripresa della scuola nell'infanzia primaria e media delle città di Sciacca tutto regolare ad eccezione di un problema di approvigionamento idrico alla Mariano Rossi affrontato poi in mattinata sentiamo rientro in classe oggi per alunni e docenti delle scuole dell'infanzia primaria e media della città di Sciacca scuole che erano state chiuse martedì scorso dal sindaco Francesca Valenti ufficialmente per una sanificazione ma è chiaro che il provvedimento era legato all'allarme contagiche si era nuovamente generato in città a fronte dei 54 casi di positività che erano venuti fuori dai test rapidi e che sono stati poi smentiti dai tamponi molecolari ovviamente continua la didattica a distanza per gli istituti superiori provvedimento che rientra nella classificazione della Sicilia tra le zone arancione il ritorno in classe per le scuole di base della città di Sciacca è stato questa mattina regolare senza quelle assenze che una settimana fa erano la testimonianza dei timori delle famiglie in relazione a quelli che si sono poi rivelati solo casi presunti di covid tra alunni e docenti alla ripresa dell'attività in presenza solo l'istituto comprensivo Mariano Rossi questa mattina ha avuto un problema legato all'approvvigionamento idrico è saltato un turno di distribuzione nella zona e la cisterna della scuola era secco era già successo la scorsa settimana prima della chiusura e oggi a segnalare la problematica sono stati anche i consiglieri Sant'Angelo Monte e Deliberto in realtà secondo quanto riferito dalla scuola l'amministrazione ha provveduto ad inviare un autobot e poi in mattinata è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici di Girgenti Acque per appurare se il problema è legato soltanto al turno di erogazione non garantito o se sono necessari altri interventi per evitare che l'istituto Rossi rimanga ancora senza acqua raccolta di plasma iperimmune anche ad Agrigento lo evidenzia la parlamentare Presidente della Commissione Salute all'Ars Margherita Larrocca a Ruvolo già lo scorso marzo sostiene l'assessorato regionale per la salute aveva mandato ai 30 centri trasfusionali della Sicilia una nota per capire se c'erano i requisiti per partecipare al progetto nazionale Tsunami uno studio finalizzato a valutare l'efficacia e il ruolo del plasma ottenuto dai pazienti convalescenti da Covid-19 al progetto hanno partecipato in Sicilia 8 centri trasfusionali quello dell'Asp di Agrigento non aveva requisiti per poter aderire ma questo evidenzia Margherita Larrocca a Ruvolo non vuol dire non poter usufruire del plasma raccolto da altri centri trasfusionali e non vuol dire comunque non raccogliere il plasma nell'Agrigentino invece infatti viene effettuata la raccolta di plasma ad uso compassionevole dai pazienti guariti dal Covid-19 la gestione del paziente Covid-19 all'interno degli ospedali durante la prima ondata era giustificata dall'urgenza oggi invece la mescolanza di pazienti Covid-19 e il personale sanitario che sta lavorando in condizioni estreme come il sovraffollamento dei reparti mancanza di dispositivi individuali disinfettanti ed altri supporti necessari a contrastare il virus era assolutamente da evitare e quanto dichiara il vice presidente della commissione a Lars Carmelo Pullara in relazione al crescente numero di contagi tra il personale sanitario succede al civico di Palermo come anche a San Giovanni di Dio di Grigento dove attualmente non possono lavorare e sono isolati in casa medici operatori sociosanitari e infermieri tutto il personale sanitario conclude l'onorevole Pullara e di nuovo alle prese con carichi di lavoro insostenibili i casi di contagio tra gli operatori sono in aumento anche perché non viene garantita loro fino in fondo la sicurezza è quella dei pazienti adesso passiamo alla cronaca si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due degli indagati nell'operazione antidroga dei carabinieri di Ribera che ha portato a ricostruire quello che gli inquirenti definiscono un fiorente spaccio di eroina cocaina marihuana e crack nel centro crispino come riporta oggi il giornale di Sicilia a fare scena muta al tribunale di Sciacca sono stati un 32enne tunisino finito ai domiciliari e la moglie di 20 anni romena sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria la difesa ha chiesto una misura meno afflittiva per il tunisino e la revoca dell'obbligo di presentazione per la moglie il giudice per le indagini preliminari Antonino Cucinella lo stesso che ha disposto alle misure cautelari deciderà entro mercoledì 18 novembre l'operazione è frutto di un'intensa attività di indagine coordinata dai sostituti procuratori della Repubblica di Sciacca Michele Marrone e Roberta Griffo c'è un terzo indagato di 34 anni il fratello del 32enne che si trova ai domiciliari ad Irsinia ed è che è stato interrogato per rogatoria dal tribunale di Matera chi non la pensa come loro non capisce nulla di politica così il centrodestra s'accenze rispetto alle dichiarazioni sabato scorso del consigliere Fabio Termine di Mizzica centrodestra che non ci sta dunque a sentir dire che la presentazione della mozione di sfiducia al sindaco è stato un tentativo disperato ancor più perché fatto da chi fa politica da 30 anni sentiamo da Mizzica come sempre solo un attacco su tutto e su tutti con la convinzione che chi non la pensa come loro non capisce nulla di politica così il centrodestra s'accenze sulle dichiarazioni rilasciate sabato scorso dal consigliere Fabio Termine in relazione soprattutto alla presentazione della mozione di sfiducia al sindaco Valenti all'indomani della bocciatura del rendiconto 2019 un tentativo disperato fatto da chi fa politica da 30 anni così lo aveva definito l'esponente di Mizzica generando oggi l'accesa reazione da parte di chi quell'atto lo aveva firmato per i consiglieri Bono, Miglioti, Bentivegna, Monte, Caracappa, Maglienti, Cognata, Sant'Angelo e Deliberto il sostanziale fil rouge della filosofia mizzicana è quello di attaccare tutti o quasi tutti per il centrodestra infatti è chiaro che Mizzica ha lasciato fuori dalle critiche il Movimento 5 Stelle e parte del PD per pura convenienza politica ossia per un possibile accordo in vista delle elezioni del 2022 cui il movimento di termine è già proiettato per i consiglieri di centrodestra però se nel 2017 la virginità politica di Mizzica era stata una notevole fonte di appeal per l'elettorato oggi quest'area di libatezza non esiste più Mizzica sostengono ancora i consiglieri di centrodestra è adesso un movimento che gode dei pregi e dei difetti di qualsiasi soggetto politico e che dovrà fare i conti con le scelte tipiche di qualsiasi soggetto politico di più per il centrodestra ergersi a conoscitori delle umane e divine cose mancando di rispetto a chiunque non rappresenta il nuovo bensì un modo vecchio vetusto e antiquato di fare politica ancor più nella misura in cui si criticano gli altri ma non ci si misura sulle problematiche non si offrono soluzioni un botte risposta che se da un lato testimonia come la ruggine e le divisioni nel variegato mondo dell'opposizione non siano affatto superate dall'altro è il chiaro segnale di come ormai con la sospensione del consiglio comunale di fatto si sia già aperta la campagna elettorale per le amministrative sciacca la più lunga della storia è trascorso un anno dalla morte della piccola carola benedetta catanzaro la bambina uccisa da un eurisma cerebrale in sua memoria oggi vi proponiamo la canzone scritta per lei dal cantautore saccense gaspere donato ciaccio sentiamo voi siete ancora qui più che mai distanti uniti come non mai è passato un anno dalla morte di carola benedetta catanzaro la bambina saccense uccisa da appena nove anni da un eurisma cerebrale i cui genitori hanno donato gli organi un triste anniversario per la sua famiglia anche per tutti quelli che doverosamente omaggino la memoria di questa piccola innocente che continua a vivere attraverso i suoi organi corne polmoni fegato e reni impiantati nell'organismo di altri bambini un gesto d'amore straordinario quello che i genitori hanno deciso di fare che rende la storia di carola un esempio di grande altruismo poche settimane prima di morire carola era stata ospite della nostra trasmissione Vespera al cinema insieme ai suoi compagni della scuola elementare Giovanni XXIII Simoplesso Catusi Catanzaro carola benedetta seguendo l'esempio di Biagio Conte noi Biagio Conte missionario laico di Palermo noi prendiamo i tappi delle bottiglie e le portiamo a scuola fino alla fine dell'anno dopo quella tragedia sempre a Vesper furono ospiti i suoi genitori diventati nel frattempo simbolo di dignità rilanciando l'attività dell'associazione italiana Donatori Organi la bambina era entusiasta sai mamma c'è st'intervista qua la città tu tu fatti intervistare no mamma io mi vergogno ma perché ci dicevo dai vai va bene mamma perché lei mi chiamava così infatti arrivati qua mamma che mi devi dire tu perché io quando la lasciavo a scuola ogni mattina dicevo buona fortuna per tutta la giornata e lei quando mi tornava a casa mamma tu mi porti fortuna alla memoria della piccola Carola il cantautore esercenze Gaspar Edonato Ciaccio ha dedicato una canzone dal titolo Mille candele che era già stata pubblicata nei mesi scorsi e che oggi con le mani di tutti noi che idealmente stringono quelle dei genitori e delle sorelline di Carola vogliamo riproporvi grazie 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 ancora oggi è forte la commozione ancora oggi ci stringiamo attorno alla famiglia della piccola Carola esprimendo vicinanza e gratitudine ai genitori che con il loro esemplare gesto in un momento di disperazione e sconforto hanno dato la vita ad altri otto bambini con la donazione degli organi così oggi il sindaco Francesca Valente e l'assessore Gisella Mondino ad un anno dalla scomparsa a causa come dicevamo di un aneurisma di Carola alunna della direzione didattica del primo circolo amministrazione che evidenzia l'importanza della donazione degli organi e dell'azione di sensibilizzazione che le associazioni di volontariato svolgono come l'Aido di Sciacca dedicata a Carola Benedetta Catanzaro Sindaci di Montevago e Santa Margherita Belice insieme ieri per celebrare la giornata mondiale dei poveri promossa dal gruppo di volontariato vincenziano i pranzi preparati dalle volontarie sono stati consegnati a domicilio alle persone più bisognose ne parliamo in questo servizio Sindaci dei comuni di Santa Margherita Belice e Montevago Franco Valenti e Margherita Larocca Ruvolo insieme ieri per celebrare la giornata mondiale dei poveri giunta alla quarta edizione distituita nel 2017 su iniziativa di Papa Francesco nel Belice la giornata è stata promossa dal gruppo di volontariato vincenziano siciliano guidato dal presidente Giovanni Monreale una ricorrenza che quest'anno ha assunto un significato ancora più forte alla luce della grave emergenza sanitaria che dal punto di vista economico sta colpendo maggiormente proprio le persone più deboli i pranzi preparati dalle volontarie sono stati consegnati a domicilio alle persone più bisognose la giornata mondiale del povero è questa attività che il gruppo vincenziano locale fa urla al mondo intero non solo a queste piccole comunità che i poveri ci sono che non bisogna girarsi dall'altro lato e che come fa il volontariato vincenziano ogni giorno si spende per dare assistenza per dare supporto per intervenire nel migliore dei modi non soltanto dando cibo quindi solo bene i materiali ma anche facendo altro e con altro intendo le bollette intendo il vestiario e poi c'è quella povertà che a volte è una povertà psicologica e oggi più che mai questo è di fondamentale importanza una parola di conforto a chi è nel silenzio del proprio dolore e questo secondo me credo che sia oggi più importante che mai siamo qui con l'onorevole da Rocca penso per testimoniare ancora una volta la nostra vicinanza a queste iniziative siamo qui per ringraziare il volontariato vincenziano siamo qui per ringraziare il presidente per tutto quello che fa per appunto l'esempio che dà in questo momento di particolare difficoltà e allora è importante esserci esserci ancora una volta e diciamo che questa esperienza di volontariato a Santa Margherita è un esempio fulgido di come ci si possa interessare degli ultimi delle persone che hanno bisogno oggi ancora di più questo messaggio ritengo che sia importante farlo veicolare perché dobbiamo stare vicini appunto a chi ha bisogno non solo come diceva Margherita del sostegno economico ma ha bisogno anche di una parola di conforto ha bisogno di sentire gente vicina di sentire il calore umano di gente che cerca appunto di servirle e di servirle al meglio sono in fase di erogazione 32 milioni di euro da parte della regione siciliana per aiutare le scuole statali a fronteggiare l'emergenza covid-19 i fondi serviranno per potenziare le dotazioni informatiche la connettività e per eseguire interventi di miglioramento edilizio si tratta di somme che si aggiungono a quelle già stanziate durante gli scorsi mesi e che rientrano nel piano di emergenza covid-19 che ha disposto 60 milioni complessivi per l'istruzione ma ne parliamo nel servizio sono in fase di erogazione 32 milioni di euro per aiutare le scuole a fronteggiare l'emergenza covid-19 fondi che saranno utili per il potenziamento delle dotazioni informatiche ed interventi di edilizia leggera somme individuate a seguito della rimodulazione dei fondi pofest a darne comunicazione è l'assessore all'istruzione roberto lagalla che annuncia l'imminente pubblicazione dei relativi avvisi utili all'assegnazione alle scuole siciliane stiamo affrontando una nuova fase emergenziale spiega lagalla e per gli istituti scolastici sarà fondamentale a poter procedere con il potenziamento della didattica a distanza nel migliore dei modi pertanto a supporto delle evidenti necessità in termini di dotazione tecnologica e di riqualificazione degli ambienti scolastici a breve ogni dirigente potrà disporre di nuove risorse utili per realizzare i necessari interventi finalizzati al contenimento del contagio si tratta di somme che si aggiungono a quelle già stanziate durante gli scorsi mesi e che rientrano nel piano d'emergenza covid-19 che ha disposto 60 milioni complessivi per distruzione non restano esclusi da tale intervento le scuole paritarie gli enti di formazione le università e le istituzioni AFAM ai quali sono destinate differenti e successive procedure nel dettaglio per l'acquisto di attrezzature programmi informatici e traffico dati sono in fase di erogazione 8 milioni e mezzo di euro destinati alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado questi saranno assegnati a ciascun istituto in relazione al numero di studenti iscritti con un minimo di 100 alunni l'importo aspettante è intorno ai 4.000 euro fino ad un massimo di 22.000 euro per gli istituti con oltre 2.500 alunni queste somme fanno parte dei 15 milioni di euro complessivi destinati dalla legge di stabilità regionale al miglioramento dell'infrastrutturazione digitale delle scuole dei quali oltre 2 milioni negli scorsi mesi sono già stati erogati alle scuole statali paritarie regionali utilizzati per l'acquisto di oltre 7.000 tablet e 224.000 schede 5 milioni saranno invece a breve impiegati per la realizzazione di un intervento straordinario per l'ottimizzazione del sistema di digitalizzazione delle scuole siciliane in aggiunta sono stati ottenuti dalla rimodulazione dei fondi FESD altri 20 milioni di euro che saranno utilizzati alla definizione del piano triennale strategico 2020-2023 per il contrasto alla dispersione scolastica del quale si occuperà il gruppo di lavoro realizzato di intesa con il ministero dell'istruzione e l'ufficio scolastico regionale ci spostiamo a Santo Stefano di Quisquina dove è stata inaugurata e riaperta al culto la chiesa madre due anni fa il comune aveva ottenuto dall'assessorato alle infrastrutture il finanziamento per il progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro e ristrutturazione della chiesa madre per l'importo di 608 mila euro ieri sera la restituzione del bene alla popolazione la settecentesca chiesa madre evidenzia il sindaco Francesco Cacciatore conserva le maggiori opere artistiche e custodisce il grande patrimonio spirituale legato alle tradizioni religiose della comunità di Santo Stefano Quisquina adesso vediamo quale è il libro che ci consiglia oggi la Mondadori di Sciacca un libro divertente è capace di raccontare le differenze più profonde fra Italia e Stati Uniti viste da un osservatorio speciale la coppia Simona si innamora dell'America molto presto immaginandola come il mondo dei film di Woody Allen quello di Friance e dei Sex and the City e più avanti quello di Michelle e Barack Obama a New York dove è corrispondente per una rivista italiana conosce Dan se ne innamora e la vita americana comincia per davvero dopo un mese esatto dal giorno del loro matrimonio Donald Trump vince le elezioni sorprendendo il mondo il sogno americano di Simona va in frantumi e lei si sente vittima di una vera e propria truffa è costretta ad aprire gli occhi su una realtà che così perfetta non è la sua tecnica per sopravvivere incolpare il marito di tutto quello che non va negli Stati Uniti così i loro litigi su cosa sia giusto mangiare a colazione che giacca comprare o cosa scrivere sui biglietti di auguri diventano il pretesto per parlare di temi più importanti come la sanità la gestione dei soldi e l'ingiustizia sociale che pervade un paese dove il pragmatismo regna sovrano e dove tutti sono imprenditori di loro stessi mai stati così uniti cosa ho capito dell'America litigando con mio marito americano di Simona Siri e Dan Gerstein Edito Tea Ignazio D'Amico e Chiara Davì sono i vincitori della seconda edizione dell'Open Farinella di Tennis il torneo si è giocato a Menfi ma è stato organizzato dal Tennis Club Sciacca vediamo Ignazio D'Amico e Chiara Davì hanno trionfato alla seconda edizione dell'Open Memoria alla Giovanni Farinella di Tennis si tratta di un torneo di interesse nazionale dedicato alla memoria di Giovanni Farinella grande appassionato di Tennis e con un monte premi di 750 euro l'Open è stato coordinato e diretto dai giudici arbitri Gaetano Ditta di Alcamo Totò Caracappa e Santo Cusumano e dall'istancabile direttore di gara Enzo Colletti la manifestazione sportiva organizzata dal Tennis Club Sciacca si è svolta sui campi in duro del Tennis Club Menfi del presidente Santo Cusumano ad imporsi nel singolare maschile il palermitano Ignazio D'Amico del Tennis Club Calagia Palermo sul fratello Michele D'Amico con il punteggio di 6-4-6-2 semifinalisti i due giovani atleti del country Palermo Federico Scotuzzi sconfitto da Michele D'Amico 6-1-2-6-6-0 e Francesco Cardinale sconfitto 7-5-6-2 da Ignazio D'Amico nel singolare femminile invece è successo della quattordicenne palermitana Chiara Davì del Tennis Club Palermo 2 sulla riberese desideria d'amico del Tennis Club Palermo 3 con il punteggio di 6-0-4-1 e poi ritirata la nostra soddisfazione più grande sono le frasi di ringraziamento che ogni partecipante sia atleta sia staff di accompagnamento ci rivolge all'epilogo del torneo ha dichiarato il direttore di gara Enzo Colletti il quale ha colto anche l'occasione per ringraziare pubblicamente il presidente del Tennis Club Memphis Santo Cusomano per la disponibilità dimostrata e la magnifica accoglienza riservata a tutti gli atleti e accompagnatori un grande sforzo quello che per settimane tutti i soci e il direttivo del circolo hanno profuso per l'organizzazione dell'open con appuntamento adesso alla terza edizione termina qui il nostro telegiornale grazie ancora una volta per averci preferito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti